Buongiorno e bentornati. In questo video vi presenteremo un occhio tridimensionale realizzato con una stampante 3d e andremo a individuare le varie parti dell'occhio. Qui vediamo la cornea. Stiamo indicando la cornea. Poi vediamo la camera anteriore contenente l'umor acqueo. Adesso vediamo l'iride e la pupilla. L'iride è quello che dà il colore ai nostri occhi e invece la pupilla è quello che fa entrare la luce. Qui adesso stiamo vedendo i muscoli ciliari. Eccoli qua, i muscoli ciliari. Invece questo è il cristallino. Adesso stiamo indicando il cristallino. Proseguiamo con il corpo vitreo. Invece in fondo, ecco qui stiamo indicando la retina. La parte sensibile dell'occhio. È un'emanazione del cervello la retina. È la parte sensibile dell'occhio dove viene la trasduzione di un segnale luminoso biologicamente compatibile. Invece adesso qua stiamo segnando, stavamo segnando il nervo ottico. Ecco, vediamo l'occhio in sezione. È stato fatto con una stampante 3D. Speriamo di essere stati utili. Vi ringraziamo e vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Grazie e se volete visitate il nostro sito www.elettronicadidattica.com www.elettronicadidattica.com Alla prossima, arrivederci. Grazie 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 Grazie